e benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del vostro unico player su brawl stars un mio amico mi ha chiesto che ora non è online nico ma perchè non fai questa sfida vediamo quante coppe riesco a fare in 10 minuti io ho accettato subito la sfida perchè è veramente bello e mi sono segnato i trofei che ho adesso e adesso il timer parte ora sono 9 minuti tranquillissimi partiamo il mio allenato c'è colonnello ringhio partiamo veramente troppo male perchè colonnello ringhio non è forte non è forte questo c'è stack ma come faccio a killarlo secondo me il mio amico l'ho killato attenzione ha sprecato un po' il gadget ma poco importa perchè il gadget questo qua del colonnello ringhio non è così tanto utile dai se 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 c'è più 5 power up ma il mio amico lo kill si dai chiediamo rosa chiediamo rosa ho sprecato definitivamente la super ma non mi interessa secondo me riusciamo a vincere la partita secondo me facciamo primo posto io ci scommetto qualsiasi cosa perchè dai oh mamma mia no dai 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 non sta succedendo che cacchio sta succedendo dai uccidiamo bull siamo allo scontro finale siamo allo scontro finale dai dove si nasconde vedo che colonnello ringhio è pronto ad usare la sua super ci abbiamo 13 power up secondo me siamo gli unici con un gran numero di power up oh aspetta ma c'è il potenziamento del colonnello sicuramente l'avrà usata la super prendiamo il potenziamento ma dov'è l'aleato scusami dai ah eccolo dai perchè dai dai faccio primo posto eh via la squadra ha vinto e abbiamo completato pure una missione benissimo 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 oh vediamo un po' casse enorme casse enorme vediamo un po' se troviamo il brawler mai nella vita yeeeh siamo a un numero di trofei altissimo ma direi di non usare più hams ma spike spike però non è così forte vabbò uso il brawler con il con un vabbò dai rimaniamo con hams mancano 7 minuti attenzione 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 perché perché se non ce la faccio so guai allora secondo me o facciamo secondo posto o perdiamo perché primo posto non lo faremo mai nella vita mai nella vita se lei c'ha bea se il mio alleato c'ha bea è inutile che diciamo dai ho fatto primo posto si cioè è impossibile che fai il primo posto a meno che non si è proprio un fortunato no 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 ecco secondo me loro faranno primo posto secondo me loro faranno primo posto non c'è nessuno ok oh primo i power up oh si si dai forse forse possiamo fare il primo posto se lo facciamo siamo dei grandi siamo dei grandi perché perché non è prevista questa cosa attenzione 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 faccio qua c'ho poca vita so è uscita a sopravvivere ma cosa cavolo dai dai subito da wow what dai dai no uh uh scrive con la super secondo me facciamo o secondo posto perché è la cosa più probabile bea usa la sua super che li ha rallentati oh però lei tra i hard da un botto però il mio alleato non è così nabbo eh devo dire la verità eeeh mo sono rimpiccioliti e mo solo no ah è uscita con pochissima vita dai uccidela uccidela si scontro finale scontro finale dai facciamo primo posto dai no vabbò abbiamo guadagnato qualche trofeo abbiamo guadagnato qualche trofeo per fortuna e stiamo procedendo alla grande mancano cinque minuti mancano cinque minuti meno male che mancano ancora cinque minuti non può dai non mettere tanto a caricare Brawl Stars allora 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 oh grazie c'è il mio alleato c'ha Carl Carl eeeh il fatto che può sparare che c'ha no doppio danno dai uso il gadget no perdiamo trofei no tre no tre l'odio come numero però non è così tanto eh allora allora stavolta no il primo ma proprio quello che è più scarso perché scarso perché io ce l'ho 200 trofei il primo quindi ce l'ho proprio bassissimo pure il mio alleato c'ha Ems dai però il mio alleato non è Nabbo non è Nabbo dai uccidilo uccidilo dai no che cosa ma il mio alleato è fortissimo no però c'è Pam Ems che sono forti oh il primo sarà super in modo proprio inutile 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 proprio come il Brawler incredibile e io sprecato la super pure inutilmente no mo me la devo ricaricare per l'ennesima volta allora dai il primo puoi killare Pam anche se è difficile killare Pam lo so è difficile è difficile è difficile chiamo Toro TGC prendiamoci tutto prendiamoci tutto scappiamo 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 prendiamoci il power up prendiamoci il power up piazziamo un graffito a caso e anche un emoji a casissimo chissà il mio alleato che sta facendo in quel momento ti ho aiutato il primo non puoi dire proprio niente ha ucciso Spike Spike è pure forte mancano tre minuti mancano tre minuti mancano tre minuti mancano tre minuti dai 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 mancano tre minuti ma secondo me facciamo primo posto sarebbe bellissimo se facciamo primo posto no ma ma come fa non ascegli da zero power up o so io un hub o non si spiega allora il primo c'è 16 power up no non perdere vita il primo altrimenti mi arrabbio no non perdere vita ma dai ma sei nabbo ma sei il più nabbo di qualsiasi cosa però abbiamo fatto secondo posto niente male vediamo un po' che brawler possiamo usare non partiamo tempo due minuti due minuti tipo il tempo di una partita il tempo di una partita vediamo un po' se quanti trofei riusciamo a fare come ben potete vedere io non sono uno che traierda molto perché io voglio proprio affrontare il nemico da vicino tipo quel gas che lo trovo ha un power up noi ne abbiamo due lo voglio affrontare da vicino anche se lui no no ma chi mi ha ucciso chi mi ha ucciso no 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 tre trofei rigiochiamo rigiochiamo so che Brock non vuole più giocare con me manca un minuto un minuto e cinquanta per le però secondo me ci riusciamo ci riusciamo dai dobbiamo solamente sbrigarci perché il timer di dieci minuti sta scadendo sta scadendo nel modo peggiore no 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 Bull Bull fa paura Brock usati il gadget nel modo giusto se si 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 però adesso mi devo allontanare è difficile però eh che sta scadendo il minuto siamo già un minuto e basta oddio 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 dobbiamo sbrigarci dobbiamo sbrigarci altrimenti altrimenti quei trofei non valgono no il mio letto si è fatto killare no si è fatto killare non ci credo non ci credo è mossa Maxine mi sta perseguitando no siamo in quale serie oh l'ho danneggiata l'ho attaccata l'ho attaccata no questo ci è colette ma siamo proprio impigliati in guai grossi basta Oddio, 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 oddio Sono 46 secondi Non li considero più Sti Secondi però Quanti trofei ho perso Ok, facciamo l'ultima partita Facciamo l'ultima partita Non sono ancora passati 10 minuti Mancano solo 30 secondi Mancano solo 30 secondi Oddio, 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 oddio Dobbiamo sbrigarci, dobbiamo sbrigarci Ma non sia una partita lentissima Però dobbiamo sbrigarci Allora, Tupan, se mi è in mente Non mettere graffiti perché altrimenti Non ce la facciamo proprio Dobbiamo sbrigarcela Dobbiamo squagliarcela Dai, dai, dai Vediamo Il timer è suonato Però purtroppo dobbiamo fare questa partita Dobbiamo finirla Togliamolo Stoppiamolo Però dobbiamo completare questa partita Perché Ok Siamo allo scontro finale Siamo a 9 power up Quindi secondo me riusciamo a vincere Seriamente se facciamo il primo posto Siamo i più forti Più forti del mondo Dai, dai, dai Uccidiamo il bombardino Uccidiamo il bombardino Dai, bombardino Fatti uccidere Dai Accontentati del secondo posto Bombardino Accontentati Questo non si accontenta E va di super Ah, c'è un altro Ah, c'è un altro Chi c'è poi Prendiamo il power up Prendiamolo subito 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 Senza esitare Prendiamo il power up Prendiamo il power up Ma dov'è Dov'è l'altro Dov'è Dai Dove si nasconde Dai Ma Non ti puoi accontentare del secondo posto Mamma Ecco Eccoli dove sono Pam Riuscirà a killare tutti E vediamo quanti trofei ho ottenuto Più 9 trofei E qua Vediamo un po' Siamo a 8.422 8.399 8.422 E un attimo 3.399 Ehm 399 Ok Il record di trofei In 10 minuti E di 13 trofei Ho fatto veramente schifo Cioè Come se giocassi Due sopravvivenze in solo Praticamente Però non è ancora finito qua il video Facciamo Giochiamo la mappa Che vi avevo fatto vedere Ieri Come vi ho fatto vedere Eccola qua Ricoperte i jump Cioè Fidatevi che qua succederà L'incredibile L'incredibile Succederà No veramente Non sto scherzando Non sto scherzando Eccoci qua Spagniamo proprio qua Spagniamo proprio qua Spagniamo proprio qua Oh Ho preso il test Mi ha sbaglio Mamma Tutto il test Jump Messe così a caso Oddio 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 Non so che fa Dai No 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 Dai Passiamo in mezzo Le jump così A zic tac Ci sono pure i stelle cadenti Pure i robottoni C'è di tutto C'è di tutto Cioè non si capisce niente Oh oh No Mamma mia Meno male che sono immune Meno male che sono immune Che ero immune Perché mo Mi hanno killato No Dai 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 Recuperiamo Recuperiamo Siamo pari Siamo No 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 Non siamo più Dai Dai Uccidiamo Quello Nello ring Perché vai dalla mia parte Robot Non capisco No Meno male che ha preso Jackie Dai 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 Non si capisce niente In questa partita Non si sta accadendo Veramente niente Però sicuramente Abbiamo perso C'è da dire Questo Dai Recuperiamo Recuperiamo No No Non togiamoci No 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 Ma uccide tutti Oh Sono giampati Non ci credo Dai Uccide Fango Uccide Fango Vabbò dai Non l'ho ucciso Sicuramente Oh Abbiamo recuperato Ma dai Gli signori No 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 Per niente C'è di poco Ah Jackie ha usato la sua super C'è C'è Raga È impossibile Da giocare Provateci anche voi A farla Non è semplice Potete vedere il tutorial Del video che ho fatto ieri Per riuscire a farla E abbiamo perso Purtroppo Però è successo L'incredibile In questa mappa Bene ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciate un bellissimo like Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Per non perdervi nessun video Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao